la squadra di cuorghè 3 4 3 3 3 2 1 VIA eri quello che è spuntato musaro però è vero ed Il terzo tiro verrà effettuato dal comune di Baio. E si prepara naturalmente il prossimo comune che è Balzerga. Da parte, da 100 metri. Non mali, non mali. Non mali, non mali. Soltanto un piccolo schifo che, peraltro, l'amministratore si sta gustando di una certa soddisfazione. E intanto, dai miei amici, ricordiamo che tutta la... Eccola qui, quella che guarda, scruta... Eccola! Cap. È sempre facile. Non è che è così possibile. E' la volta di Canischio. Subito dopo un corto, quindi Canischio che prende, preleva la torta dal tavolo... Non sbagliare! Si ha levato la torta, si avvicina a Purti. Stavo dietro a dietro. Abbiamo soltanto gli stinti che sono buoni da gustare ma non fanno punteggio. Ricorda che sotto ogni amiciatore è stata buona. Ci siamo? Allora, Frassinetto si prepara a ritirare dal tavolo la torta. Mi sembra di capire che c'è uno degli amiciatori che ha ricevuto prima. Adesso scruta l'orizzonte, sceglie l'obiettivo e prova a tirare. Vediamo? 3, 2, 1... ... Grazie a tutti 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 Grazie a tutti